Marina di Fiano, Punta Gradella, la bellissima torre di Punta Gradella, giù in basso sulla scogliera con la nave chiatta stella probabilmente che sta rinfocolando la scogliera, arricchendola con altri scogli ma nello stesso tempo vediamo che sulla scogliera è prodotta una impalcatura in ferro di piatto per creare una piattaforma, per creare una base, molto probabilmente per stabilimenti o per altre cose, lavori che si preparano per la prossima estate, sotto qui ancora la torre, bellissima colorazione delle acque.